buongiorno a tutti amici di youtube benvenuti sul mio canale 5 a 2 per il sassuolo a milano adesso voglio vedere tutte quelle facce di puntini puntini aziendalisti che difendono cardinale che il mercato non serve che pioli continua con il centrocampo a due e questa è la prova di nuovo a due altri cinque gol quattro con la lazio e tre con l'inter andiamo avanti a prenderne sempre uno in più pioli per me oggi tu devi andare fuori dai coglioni tu non sei più in grado di stare in questa squadra non è possibile che tu con inter lazio prendi una scoppola del genere oggi mi rigiochi di nuovo con il centrocampo a due con quel cazzo di modulo avanzato squadra lunga e ne presi cinque nei presi cinque fate schifo dovete vergognarvi dovete andare a lavorare dovete vergognarvi tutti perdere ok ma c'è modo in modo questo non è modo di perdere dovete fare dovete veramente andare a lavorare fate schifo inutile devono fischiarvi devono fischiarvi cantare ma che cazzo c'è da cantare che fate cagare siete una squadra ridicola con un allenatore ridicolo è un presidente ridicolo presidente assente assente mercato assente pioli presuntuoso e incompetente giocatori viziati senza voglia senza niente calabria un cadavere un crunici un cadavere siete veramente vergognosi mi fate tutti schifo non siete degni di mettere addosso quella maglia non siete degni brutti maledetti la gente spende soldi fa chilometri abbonamenti per poi perdere ok c'è modo in modo questo è modo di perdere questo è un modo di perdere pioli di nuovo centrocampo a due te l'ho detto ieri nel video non mettere sto centrocampo a due che ci allunghiamo non siamo pronti fate schifo dopo faccio un altro video un'analisi un po più calma fate schifo vi dovete vergognare dovete andare a lavorare pioli non ti voglio più vedere mi fai schifo tu cardinale e tutti gli aziendalisti di merda come voi ciao a tutti ragazzi a dopo